Una celebrazione che il Cardinale ha voluto e ha promosso, in cui si assommano diverse intenzioni. L'intenzione è di ringraziare il Signore per il dono delle famiglie cristiane e delle famiglie in genere. La famiglia è sempre un grande dono e una grande opportunità sia per l'educazione dei figli ma anche per una vita sociale armonica, serena, gioiosa. E poi anche perché le famiglie della diocesi abbiano un loro momento formativo, un loro momento di approfondimento e insieme però un momento pubblico di festa in cui viene resa anche una testimonianza davanti a tutta la cittadinanza della gioia, della bellezza che i cristiani sentono e che vogliono testimoniare a tutta la città della realtà familiare così come i cristiani e la Chiesa la comprendono e la vivono. La festa della famiglia si svolge sostanzialmente in due momenti. Uno il sabato 18 ai Giardini di Margherita è il momento nel quale le realtà familiari vogliono rendersi presenti a tutte le altre famiglie mettendo un po' in evidenza la risorsa che è la famiglia stessa. Il giorno successivo invece sarà un momento che vedrà sostanzialmente tre momenti diversi. Uno la mattina di formazione, di riflessione, di ragionamento su come le relazioni possano essere lo strumento giusto per educare e quindi come la famiglia sia il luogo nel quale queste relazioni si possono coltivare e quindi pomeriggio un momento più di festa nel quale cercheremo di prenderci un po' in giro attraverso delle situazioni che verranno rappresentate. Il momento finale è il momento liturgico, il momento della messa che sarà celebrata dal Cardinale nel quale uniremo la nostra preghiera e la nostra testimonianza di famiglie cristiane insieme alla preghiera del Cardinale.